Hanno incontrato sindaco e polizia municipale per chiedere la riapertura a doppio senso di marcia della vecchia strada comunale della Contessa i residenti e i titolari di attività commerciali e ricettive delle zone di San Bartolomeo e Burano di Gubbio interessate dalla chiusura della statale 452 Contessa. Rappresentate dall'avvocato Luigi Santioni, circa 40 persone sono state ricevute a Palazzo Pretorio dal primo cittadino Filippo Stirati e dai vertici del comando di polizia. Loro chiedono di poter utilizzare la vecchia strada comunale della Contessa a doppio senso cioè per poter andare verso Cagli e per poter tornare verso Gubbio perché hanno necessità quotidiane ripetute insomma visto il luogo dove abitano, dove esercitano l'attività e c'è stata comprensione e molta attenzione da parte sia del sindaco sia dei tecnici comunali che erano presenti della Polizia Municipale. Quindi si cerca una soluzione che sia compatibile da un punto di vista tecnico cioè della sicurezza ma anche da un punto di vista amministrativo di poter emettere un provvedimento che consenta il traffico in entrambe le direzioni o delimitato ai residenti in una particolare zona che è quella di San Bartolomeo come abbiamo chiesto oppure se possibile installare dei semafori con dei tempi che saranno sicuramente abbastanza lunghi perché il tratto è 3 km e 200 metri che possa consentire il traffico alternato a tutti insomma sull'arteria pur con delle pause chiaramente non brevi di attesa. Quindi queste possibilità verranno ora valutate? Verranno valutate sì, verranno prontamente valutate così c'è stato promesso perché insomma io ho riscontrato una certa sensibilità a questi problemi. Ha riscontrato però anche immagino i disagi di quella che è la popolazione tra le scuole, tra il lavoro? I disagi sono facilmente immaginabili perché è un'arteria di collegamento che non è sostituibile, è unica e quindi i disagi della circolazione sono evidenti.